Quali sono i fattori che favoriscono la comunicazione interpersonale e come ci sono i fattori che si orienta con il linguaggio del corpo dei nostri interlocutori, ovvero come interpretarli? Il linguaggio del corpo è la parte predominante della comunicazione. Spesso noi diamo poca importanza a questo aspetto, anche per motivi culturali, magari anche a scuola non ce ne hanno mai parlato, non abbiamo mai preso coscienza, ma il linguaggio del corpo è la parte predominante di ciò che noi trasmettiamo ai nostri interlocutori e lo facciamo a livello inconscio, anche senza esserne coscienti per l'appunto, ma in ogni istante noi comunichiamo passando proprio attraverso il linguaggio, i segnali del corpo, le espressioni del viso, il sorriso, lo sguardo, la gesticolazione, la distanza che manteniamo con i nostri interlocutori, che si chiama in termine tecnico prossemica. Ci può fare alcuni esempi di decodificazione di questi linguaggi del corpo? Volentieri, anche se dobbiamo fare alcune premesse importanti. Ogni gesto va contestualizzato, cioè un singolo gesto fatto in un certo contesto può avere un certo significato ed essere interpretato in un certo modo e in un altro contesto invece può avere un significato completamente diverso. Quindi tutto va sempre contestualizzato, non dobbiamo fermarci sul singolo gesto. Spesso quando parlo dei segnali della bugia, per esempio dico che una persona che quando mente quasi sempre tende a sfiorarsi il naso, però questo non vuol dire che se uno mentre parla per una volta si sfiora un attimo il naso è perché è un bugiaro, è perché magari in quel momento è un gesto inconscio. O lo stesso gesto in altri contesti può dare altri significati, del tipo questo può essere di interesse, questo può essere di rifiuto. In alcuni contesti, per esempio nell'ambito seduttivo, nel contesto giusto può addirittura trasmettere interesse nei confronti dell'altro interlocutore. Ecco, le ho fatto un esempio sul naso, ma questo vale un po' per tutti i gesti del corpo. Questo sistema di decodificazione è valido in tutte le situazioni, in tutte le circostanze? In linea di massima sì, dobbiamo tenere presente che ci sono alcune differenze anche a livello culturale, ci sono alcuni gesti, alcuni comportamenti che della cosiddetta cultura occidentale, quelli in cui viviamo noi, possono avere un certo significato, essere interpretati quindi in un certo modo, in altre culture invece possono avere delle sfumature diverse, anche in alcune situazioni diverse all'interno dello stesso paese, per esempio chi vive in montagna, per esempio in luoghi, spazi molto ampi, tende solitamente a mantenere una distanza più ampia con gli interlocutori, chi invece vive in città, quindi in ambienti più ristretti, quando parla solitamente mantiene una distanza più ristretta. Senta, lei ha detto che i nostri gesti emergono dal subconscio, ma chi conosce come lei, o come gli esperti di comunicazione, chi conosce la traduzione di questi comportamenti o linguaggi del corpo, come li abbiamo chiamati, perde in spontaneità? Assolutamente no, io dico sempre che la conoscere e decodificare i segnali del corpo non ci deve assolutamente far diventare persone costruite, però può aiutarci a conoscere meglio noi stessi e i nostri interlocutori. La vera sfida è proprio questa, rimanere noi stessi, perché noi cogliamo sempre in ogni momento i segnali del corpo, anche se non sappiamo nulla della comunicazione non verbale, però noi li recepiamo a livello di sensazione, quella che noi chiamiamo solitamente la sensazione a pelle, una persona mai vista, mai conosciuta prima, già di primi secondi a volte diciamo questa persona non mi piace, non mi è simpatica, non mi ispira fiducia, o viceversa, altre volte diciamo questa persona mi piace, mi ispira fiducia. Questo processo avviene a livello inconscio, indipendentemente dalla nostra conoscenza o meno dei segnali. Conoscere questi segnali non ci porta assolutamente a diventare persone innaturali, ma solo a decodificare meglio i segnali che comunque vengono trasmessi e recepiti da ognuno di noi. Grazie. Grazie a lei.